La trasformazione digitale, i trend che definiranno il futuro dei servizi finanziari, è un titolo impegnativo? Sì, è un titolo molto impegnativo che però necessariamente le banche e tutto il sistema bancario deve perseguire, visto che poi è cosa che sta già avvenendo negli altri settori industriali, quello che è già avvenuto. In particolare stasera si parlerà di digitalizzazione, l'importanza della digitalizzazione, di come poi interpretare i dati e l'utilizzo dei dati nel sistema finanziario. Come vi dicevo, sicuramente è un percorso tortuoso per il sistema bancario, soprattutto perché poi i nostri interlocutori principali sono i clienti, i risparmiatori e già quando si parla di finanza è già complesso del suo, perché poi ci deve essere un'empatia, una fiducia che deve nascere tra la banca e il cliente, poi quando gli comincia a parlare anche di strumenti nuovi, innovativi, in cui non tutti siamo così preparati, diventa ancora più difficoltoso. Però è una strada obbligata, è una strada che però alla fine porterà sicuramente benefici per tutti, sia per la banca ma anche per il cliente. Questo qui cosa permetterà? Permetterà in primis di sviluppare ancora di più la relazione con il cliente, dare importanza alle cose importanti, da mettere a fuoco quando tu hai di fronte un cliente. Questo indipendentemente che sia risparmiatore oppure un prenditore di fondi o l'impresa stessa, anzi per le imprese questo è un percorso che già conoscono, perché già da tempo per loro la digitalizzazione dei dati, l'informatizzazione del dato è una cosa che già è avvenuta e si sta sempre di più perfezionando nel tempo. Non da ultimo si parla sempre di più di intelligenza artificiale, perché spavento un po' questo termine, perché sembra di adesso cosa ci potrebbe succedere. Invece, anzi, utilizzate nei modi giusti, come deve essere utilizzate, è un altro strumento di ausilio, di supporto per lo sviluppo futuro della tecnologia, ma soprattutto a servizio dell'industria, dell'impresa e anche del risparmiatore. Diciamo che la digitazione o digitization, perché poi dovremmo fare un po' di uso di termini anglosassoni che in qualche caso aiutano, per esempio una traduzione specifica per digitization non c'è in italiano e questo alimenta ancora un po' la confusione, è un trend irreversibile. È il trend che prevede una conversione di qualsiasi contenuto di carattere analogico, quindi una foto, un testo, un documento, qualsiasi cosa, in un contenuto digitale. Ecco, è molto importante considerare che questo è un fenomeno, è un trend irreversibile che ormai dal 1950 ad oggi ha trasformato in digitale un quantitativo di materiale e di documenti enorme fondamentalmente. Da lì nasce la digitalizzazione, cioè come adottare le nuove tecnologie e questa evoluzione della digitazione all'interno delle organizzazioni per migliorare il processo produttivo, un processo di distribuzione nei confronti dei clienti. Quando parliamo invece di digital transformation parliamo di un progetto per l'appunto di trasformazione. Quindi deve essere chiaro in che cosa ti vuoi trasformare, non stai semplicemente mettendo un sito di e-commerce o migliorando un processo all'interno dell'organizzazione, stai veramente cambiando il tuo modello di business, stai cambiando il modo in cui vuoi dare valore ai clienti e qui la questione diventa molto più complessa e vedremo alcuni esempi.